L'attaccante non si è ripreso dallo stiramento muscolare. Ci sono invece Bonucci e Aleksandro Giovanni Albanese Dusan Vlaovic fuori dai convocati per Juventus Milan. A differenza di Leonardo Bonucci, l'attaccante serbo non ha superato le prove fisiche in fase di rifinitura e il sovraccarico tendineo del muscolo sartorio della coscia destra non lo ha eliminato del tutto, andrà in tribuna stasera. In ogni caso Max Allegri sembra convinto di puntare sul tridente. Nelle ultime 48 ore ci ha provato con insistenza Saracchina reggere L tra Chiesa e Di Maria. A parte quest'ultimo, saluti perché all'ultimo da bianconero Allianz Stadium potrebbe essere un primo assaggio di futuro anche se ogni decisione è rimandata a fine stagione e al momento nulla si può pronunciare fuori. Juve convocata, mancano gli infortunati di lunga data de Sciglio, Pogba, Fagioli e Caio Orge. Ci sono i giovani Sersanti e Barbieri, entrambi protagonisti di una bella stagione next generale c'è Alexandro, che ieri in conferenza stampa Allegri aveva segnalato perplessità e il brasiliano, fresco di rinnovo per un altro anno per aver superato i presupposti previsti da un'opzione legata al suo contratto, dovrebbe sedersi panchina. Dopo aver scontato la squalifica contro L Empoli, Quadrado e Danilo torneranno in rosa, entrambi verso una maglia da titolare. Portieri Scesni, Perin, Pinsoglio. Difensori Bremer, Danilo, Alexandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri. Centrocampisti Locatelli, Quadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti. Attaccanti Chiesa, Milik, Kinn, Di Maria, Eiling Junior.